Il questore di Brindisi, dottor Domenico Cucchiara, fa una breve considerazione alla luce degli ultimi fatti di cronaca, in particolare rapine e arresti, nei confronti di componenti, la malavita locale e invita i cittadini alla calma ed in particolare alla collaborazione. Brindisi nel mirino delle rapine negli ultimi mesi e ieri c'è stato l'arresto di uno dei responsabili, è finita qui? È quello che io mi auguro, c'è stato l'arresto di uno dei responsabili che mi conforto ovviamente e spero conforti la cittadinanza, la collettività brindisina. C'è una risposta, secondo me, tale da rassicurare, da indurre la cittadinanza a una maggiore idea e percezione di sicurezza. Sono consapevole del fatto che in questo momento la città è attraversata da episodi che inducono a preoccupazione e per questo ho già predisposto, ho già organizzato, ho già dato disposizioni affinché i servizi di controllo del territorio, che sono una priorità per noi, per la questura di Brindisi, vengano ulteriormente incrementati. A parte le rapine, si sono verificati in questi giorni anche altri episodi, ritiene che ci sia una recrudescenza che vada oltre la microcriminalità? Guardi, sono degli episodi che hanno chiavi di lettura complesse, non sono sufficienti i due episodi per fare un'analisi. Indubbiamente il fatto che i due episodi ai quali lei si riferisce sicuramente sono quelli in danno dei familiari di un noto collaboratore, in un arco di tempo così stretto lasciano ipotizzare, come posso dire, un collegamento diretto con la famiglia e con le vicende familiari. Però da investigatore non posso preferire nessuna ipotesi investigativa che non sia supportata da fatti, quindi ci sono indagini in corso e vedremo che cosa ne verrà fuori. Grazie per la visione!